È una bellissima giornata di sole. Cinque milioni e mezzo di cittadini che ieri hanno scelto di votare ci dicono, che per il futuro dell'Italia c'è da sperare, e che la riforme partono dal basso nonostante i poteri forti. È stata una lezione di democrazia per tutta Europa. Esulta il segretario della Lega Nord Matteo Salvini all'indomani del referendum sull'autonomia. Abbiamo scelto una via regolare, pacifica, costituzionale. La stessa opportunità la offriremo a chi da Nord a Sud ce lo chiederà. Puglia, Abruzzo, Piemonte, perché no anche Lazio. Non è la vittoria della Lega, è la vittoria di cinque milioni di cittadini, continua Salvini. Le richieste di autonomia, dice Salvini, hanno convinto cinque milioni, e mezzo di cittadini, e su questo Maroni e Zaia hanno mandato totale. Alle prossime elezioni politiche ci saranno due modi diversi di intendere l'Italia. Una, quella del centro-sinistra che centralizza, due quella della Lega che parte dal basso, e dal popolo, che ha vinto 5 a 0.